... 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 Fece discutere il sequestro di tavolini nella città vecchia di Gallipoli, eseguito lo scorso 15 giugno tra spintoni e urla a carico dei ristoratori Cosimo Tricarico e dei figli Vincenzo e Giampaolo. Proprio Cosimo una settimana prima ai nostri microfoni aveva lamentato alcune condotte anomale dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Minerva. Il blitz avvenne all'ora di pranzo davanti ai turisti clienti che ci raccontarono la scena. Poco bello sicuramente per la clientela e per i bambini che hanno assistito alla scena, un po' diciamo arrogante. Ci sono ben altre cose, secondo me, molto più importanti a cui pensare. Ora il PM ha avanzato richiesta di archiviazione ravvisando soltanto l'articolo 633 del codice penale relativo all'occupazione di suolo pubblico, ritenendo del tutto infondata l'accusa di resistenza pubblico ufficiale come dimostrato dai videodepositati. Tra le righe si legge che all'ora di pranzo e con i clienti seduti ai tavolini la Polizia Municipale intervenne di propria iniziativa disponendo il sequestro dei tavolini collocati sul marciapiede con un singolare zelo degno di una tipica amministrazione comunale di paesi nordici votata per seguire ogni minima forma di illegalità diffusa sul territorio. Sempre tra le carte si legge che per il PM si ravvisa un'ipotesi di particolare tenuità del fatto e di non punibilità degli stessi perché, tra le altre cose, il danno arrecato è esiguo trattandosi della collocazione provvisoria per ampliare la ricettività in un periodo di grave crisi economica per il settore a causa del lockdown. Infine, il comportamento dell'indagato non può essere qualificato come abituale. Per questi ed altri motivi è stata avanzata richiesta di archiviazione. Ora la parola al giudice per le indagini preliminari.